Sesto contro Kral CTM, si gioca al Family Club per la Champions Cup Elite Amatori, partenza lanciatissima della formazione di casa subito avanti con una staffilata dalla distanza di Christian Basciu, sarà però un fuoco di paglia, Orru subito vicino al pareggio, Cannas sporca il tiro del 9 sul palo, gol del pari che arriva e viene realizzato da Matteo Capai da pochi passi, ancora Kral CTM scatenato, qui piazzato da parte di Matteo Tatti e la formazione Orange la ribalta, Orru palla per Tatti e sono 3 i gol del CTM, prova a reagire la formazione di casa, qui Christian Basciu intercetta poi col destro, Caocci in due tempi dice di no, Ancora Caocci bravissimo qui sul tentativo da parte di Sandro Soro, il CTM da quest'altra parte a prateria invitanti, Matteo Capai col mancino, poker della formazione Orange, il sesto torna in partita col calcio di rigore realizzato da Farris, 2-4 finale di primo tempo, Piro Tecnico, il quinto gol del CTM viene realizzato ancora da Matteo Capai, Poi Farris, secondo rigore di serata 3-5, ancora CTM in avanti, retroguardie un po' birichine in questo finale di tempo, il gol del 6-3 lo abbiamo appena visto realizzato da Tatti, 9 gol in appena 25 minuti di gioco, roba pazzesca. Sesto che parte meglio nella ripresa, il primo tentativo è quello di Cogoni che col mancino va a un passo dal gol, gol che invece trova da quest'altra parte Marco Ruh, splendidamente trovato a centro area di rigore da Matteo Tatti. Sul 7-3 però la squadra ospite si addormenta consentendo al sesto di rimettere le mani quasi sulla possibilità di rimontare, abbiamo visto poc'anzi il gol di Cogoni, questo è quello di Mulas per il 5-7, poi ci prova Baccio in conclusione di poco alta. E qui il gol di Sandro Soro, 6-7, pazzesco al Family Club però non c'è più tempo, vince il CTM, 7-6.